Dopo cinque sconfitte consecutive in campionato, il Nardò torna a vincere, battuto di misura all'Ercolanese per una rete a zero tra le muramiche. Taurino ringrazia i suoi protagonisti di un match non semplice, anche grazie alla formazione ospite determinata ed in cerca di punti. La rete decisiva di Aquaro arriva solo nella ripresa. Nel primo tempo partono bene i padroni di casa, con la punizione di Arario che crea scompiglio in aria, ma Marino se la ritrova tra i guantoni e sventa il pericolo. Ospiti che rispondono sfiorando la rete con Prevete che manca il bersaglio a pochi passi dalla porta. Prima della pausa ancora una palla in aria granata servita dal solito Arario, conclusione di testa che termina alta. Si va a riposo sullo 0-0 e l'Ercolanese in dieci uomini per l'espulsione doppio giallo, rimediata da Prevete. Nella ripresa preme subito sull'acceleratore il Nardò con il cross di Infusino dalla sinistra che trova la testa di Molinari, conclusione centrale e parata da Marino. La rete per i padroni di casa è nell'aria e arriva al 65esimo con questa conclusione potente di Aquaro che buca i guantoni di Marino. Nardò 1-0, Ercolanese 0, grande gioia per i salentini che corrono ad esultare assieme al proprio compagno, autore della rete. Il granata, nonostante l'inferiorità numerica, crea una palla golla all'improvviso con il colpo di testa di Esposito che si stampa sull'esterno del palo. Il triplice Fischio arriva con la seconda espulsione per gli ospiti, questa volta diretta ai danni di Della Monica. Il Nardò dopo cinque turni a secco ritrova la vittoria e i tre punti.